Dopo 33 anni, Carolina di Monaco si confronta con una verità sconvolgente sulla morte del marito Stefano Casiraghi, avvenuta in modo tragico durante una gara di offshore nel 1990. Ciò che sembrava un incidente rivela ora una nuova prospettiva, Stefano potrebbe essere stato ucciso. Il quotidiano tedesco Bild avanza un'ipotesi scioccante sul decesso di Stefano Casiraghi, suggerendo che l'uomo non sia morto nell'incidente in barca, ma sia stato assassinato dalla mafia. La motivazione dietro questo presunto omicidio sarebbe legata ai tentativi di Casiraghi di contrastare attività illecite nel settore edilizio, una teoria che ha reso la morte dell'ex pilota motonautico ancora più enigmatica. Ufficialmente, la morte di Stefano Casiraghi fu attribuita a un incidente, ma il Bild ora rilancia l'ipotesi che il marito di Carolina sia stato freddato con un colpo di pistola. Le indagini recenti, risalenti al dossier della Rocca del 2022, hanno portato alla luce documenti riservati che rafforzano questa ipotesi, collegando la sua morte alle speculazioni immobiliari e alle attività della mafia. La madre di Stefano, Fernanda Casiraghi, ha rivelato che la principessa Carolina le aveva confidato che Stefano, prima della sua morte, aveva manifestato timori e preoccupazioni. Testimonianze anonime, secondo il Bild, affermano che Casiraghi sapeva del pericolo imminente e che avrebbe persino lasciato indizi prima della sua morte, come chiamate inquietanti e l'abbandono della collana con la croce che non si toglieva mai. Il mistero sulla morte di Stefano Casiraghi sembra svelare ora un lato oscuro e intricato, portando alla luce nuove domande sulla verità dietro quella tragica giornata di ottobre del 1990.